Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In Commissione Sanità la proposta dei consiglieri Giacomo Leonelli e Carla Casciari del Partito Democratico di modificare la legge 30 per introdurre l'obbligatorietà delle vaccinazioni per i bimbi iscritti agli asili nido. Dal momento che gli ultimi dati al 31 dicembre 2016 dicono che le percentuali di vaccinazioni eseguite sui bambini sono in netta risalita e si avvicinano alle soglie di sicurezza indicate nel 95%, attualmente il 94,5% si vaccina contro la polio e il morbillo anche risalito dall'87,5% all'89,6%, non siamo contrari a favorire percorsi di vaccinazione ma proponiamo quantomeno di attendere un pronunciamento del governo coerente col nuovo piano nazionale delle vaccinazioni e con le indicazioni della conferenza degli assessori regionali alla salute. Una strada da preferire piuttosto che continuare a legiferare in ordine sparso vista la non omogeneità tra le regioni italiane che hanno già intrapreso sulla via dell'obbligo di vaccinazione e quelle che non intendono procedere in questo modo. L'assessore alla salute Luca Barberini ha intervenuto in Commissione Sanità nella fase istruttoria del disegno di legge dei consiglieri Giacomo Leonelli e Carla Casciari del Partito Democratico e ha detto l'assessore che bisogna tenere conto anche del fatto che i bimbi sarebbero sottoposti a sette vaccinazioni in un anno, che l'obbligatorietà del vaccino contro il meningococco B ha un costo di oltre un milione e mezzo di euro solo per i nuovi nati in Umbria e non riguarderebbe che una fetta della popolazione interessata. Per questi motivi gli assessori alla salute hanno sollecitato e stanno attendendo dal Ministero risposte univoche sul tema. Siamo soddisfatti del confronto nazionale che avvalora il nostro percorso di legge che impone l'obbligatorietà delle vaccinazioni per gli iscritti agli asili nido, tutelando così i bambini più deboli, hanno ribadito i consiglieri Leonelli e Casciari. È fondamentale, dicono, proseguire verso una modifica della legge regionale per non allontanarsi da quel 95% che è la soglia raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che tutela la salute di tutti, anche di quei bambini i cui genitori scelgono di non vaccinare e anche di coloro che per ragioni di salute non possono farlo. E sulla proposta dei consiglieri Leonelli e Casciari si è tenuta a Palazzo Cesaroni un'audizione pubblica con i soggetti interessati al provvedimento. Nell'audizione è emersa una netta contrarietà da parte dei rappresentanti delle associazioni presenti, Comitato Montinari Onlus, Coordinamento Danneggiati dal Vaccino, Assis Associazione Studi e Informazione sulla Salute, Auret Autismo Ricerca e Terapie, Comitato Libertà di Scelta Consapevole e diamoci una mano onlus. Sono contraria a una proposta di legge definita discriminante e lesiva dell'autonomia dei cittadini che limita il diritto all'istruzione dei bambini pur in assenza di emergenze che la giustifichino e che vuole bypassare la Costituzione, hanno sottolineato, ignorando i diritti che vi sono sanciti. Hanno chiesto anche maggiore informazione da parte dei medici sui vaccini e sulle loro conseguenze. Parzialmente favorevole il giudizio dell'Associazione Culturale Pediatri che sottolinea l'utilità delle vaccinazioni con qualche dubbio però sull'obbligatorietà del provvedimento. I consiglieri regionali hanno preso atto delle osservazioni e manifestato l'intento di approfondire il tema soprattutto sul versante medico-scientifico, in attesa che sia più chiaro anche il quadro di riferimento nazionale con il governo che ha appena varato il nuovo piano nazionale per le vaccinazioni. Audizione in prima commissione dell'Assessore regionale Antonio Bartolini su diverse tematiche, in particolare si è parlato dell'assunzione di personale aggiuntivo nei comuni colpiti dal sisma. Potrebbero arrivare altre 50 assunzioni per i comuni colpiti dal terremoto che si andranno ad aggiungere alle 50 già previste. È quanto emerso dalla riunione della prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che ha ascoltato l'assessore regionale Antonio Bartolini per affrontare diverse tematiche, dall'assunzione di personale aggiuntivo nei comuni colpiti dal sisma alle modifiche della legge sull'ARPA dal riordino delle partecipate Umbre alla sicurezza degli edifici scolastici. L'assessore Bartolini ha spiegato che il decreto legge che sta per essere pubblicato prevede un incremento di 350 unità di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che verranno destinati a tutti i comuni colpiti dal terremoto. Per l'Umbria questo si tradurrebbe in una cinquantina di unità in più. Si tratta di contratti co-co-co fino al 31 dicembre 2017. Questi si andrebbero ad aggiungere alle 50 assunzioni già previste, queste con contratti a tempo determinato che i comuni dovranno prendere dalle graduatorie già esistenti. Questo personale aggiuntivo per i comuni si va ad aggiungere ai circa 70 posti dell'ufficio regionale per la ricostruzione personale che viene scelto con procedure di mobilità già in atto. Arriviamo così, ha detto Bartolini, ad un numero di persone sicuramente sufficiente per la gestione dell'emergenza. Per quanto riguarda la legge di riordino sull'ARPA, Bartolini ha detto che il testo preparato dalla Giunta è pressoché completo e farà definitiva chiarezza elencando compiti, competenze ed effettive funzioni dei dipartimenti. L'assessore poi si è impegnato a portare in commissione entro metà marzo le linee di indirizzo che la Giunta sta predisponendo per la riforma delle società partecipate della regione. Sulla sicurezza degli edifici scolastici in Umbria, Bartolini ha spiegato che ora si sta cercando di recepire finanziamenti ed avere un quadro chiaro della situazione. In base alla ricognizione di vulnerabilità si daranno le precedenze di intervento. Valorizzazione e potenziamento dell'aeroporto San Francesco d'Assisi. A Palazzo Cesaroni audizione congiunta di prima e seconda commissione con il presidente e il direttore della SASE, la società che gestisce lo scalo. Si è svolta a Palazzo Cesaroni l'audizione convocata da prima e seconda commissione consigliare per fare il punto su valorizzazione e potenziamento dell'aeroporto regionale San Francesco d'Assisi. Durante l'incontro con Ernesto Cesaretti e Pier Vittorio Farabbi, presidente e direttore della SASE, società di gestione dello scalo, sono state illustrate le strategie di crescita dell'aerostazione, incentrate su attivazione di nuove rotte e accordo per un velivolo con base a Perugia, piano di investimenti infrastrutturali con la diminuzione dei consumi elettrici e l'ampliamento dell'area passeggeri e con lo spostamento degli spazi commerciali all'interno dell'area di imbarco. Prioritaria sarà la stabilità nell'afflusso dei finanziamenti da parte dei soci, mentre i vertici di SASE puntano a raggiungere il sostanziale pareggio economico anche prima del 2018. I dati aggiornati ai piani di investimento della SASE per il San Francesco verranno dettagliatamente presentati il prossimo 22 febbraio in occasione dell'approvazione del bilancio 2017. In apertura di seduta il presidente della prima commissione, Andrea Smacchi, ha ricordato che l'argomento è stato sollecitato dalla presentazione di una proposta di risoluzione del gruppo consigliare della Lega Nord e che un'altra audizione con la presidente della Giunta, Catiuscia Marini, è già stata messa in programma e verterà sul futuro dell'aeroporto e del sistema infrastrutturale con particolare riguardo al post-sisma. Dall'audizione è emerso che il debito di SASE a fine 2016 risulta essersi ridotto del 50%. La crescita dell'aeroporto, è stato sottolineato, richiede una certa stabilità dal punto di vista finanziario ed un velivolo con base a Perugia, condizione che potrebbe crearsi grazie all'accordo in fase di costruzione con una compagnia aerea maltese. Ciò consentirebbe di avere collegamenti utili per il turismo religioso verso Milano, la Calabria, il Nord Africa e la Russia. Un appuntamento importante è previsto per fine marzo, quando arriverà in Umbria una delegazione di 30 grandi tour operator russi, per verificare la possibilità di attivare un collegamento aereo che porterebbe un flusso turistico stimato in 70.000 arrivi. Dunque, con la messa a punto di questi interventi, potrà essere incrementato il numero dei passeggeri di circa 200.000 unità, puntando ad arrivare a circa 500.000 passeggeri all'anno. La Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari, presieduta da Silvano Rometti, si è riunita per discutere le modifiche al regolamento interno e sulla valutazione delle politiche regionali. La Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari, presieduta da Silvano Rometti, si è riunita a Palazzo Cesaroni per proseguire il lavoro di possibili modifiche al regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, concentrandosi in particolare sulla valutazione delle politiche regionali. Il Presidente Rometti ha ricordato che dopo aver approvato il primo pacchetto di modifiche, la Commissione adesso si concentrerà su un'attività di medio periodo, rimettendo mano in maniera organica la revisione all'adeguamento del regolamento. Prima però c'è da ragionare sulla valutazione delle politiche regionali e sul controllo dell'attuazione delle leggi, una partita sulla quale possiamo fare passi avanti oggettivi, ha detto. Molte cose rimangono senza una verifica puntuale ed oggi noi svolgiamo questa opera attraverso le commissioni permanenti, ma si tratta di un sistema che presenta alcuni limiti. Forse potremmo migliorare le clausole valutative, ha concluso aggiungendo le missioni valutative a una seconda fase più approfondita con attività di ricerche e analisi dati e potenziando il ruolo del Comitato di Monitoraggio e Vigilanza. Prosegue in terza commissione l'istruttoria sulla proposta di legge dei consiglieri Chiacchieroni, Rometti, Nevi, De Vincenzi e Casciari sul riconoscimento della sindrome da sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative quindi per la diagnosi e la cura che mira al riconoscimento di questa malattia come patologia rara e conseguentemente alla previsione di strumenti, e specifici percorsi per la diagnosi e la cura nell'ambito del sistema sanitario regionale. L'assessore alla sanità Luca Barberini e il dirigente Gianni Giovannini hanno ipotizzato per l'individuazione di un centro di riferimento specifico per i malati di sensibilità chimica multipla l'utilizzo dei parchi terapeutici sfruttando l'ambiente salubre, privo di fumi, polveri e odori del monte subasio con una struttura collepino per attività residenziali e un'altra ad assisi come punto di riferimento per i pazienti. La sensibilità chimica multiple è una sindrome immunotossica infiammatoria simile per certi versi all'allergia e molto spesso scambiata con essa poiché i sintomi appaiono e scompaiono con l'allontanamento della causa scatenante. Ma le sue dinamiche e il suo decorso sono completamente diversi, ossia si perde per sempre la capacità di tollerare gli agenti chimici già dal primo stadio. Può colpire vari apparati e organi del corpo, le sostanze chimiche danneggiano il fegato, il sistema immunitario sopprimendo la mediazione cellulare che controlla il modo con cui il corpo si protegge dagli agenti estranei, sintomi che si verificano in risposta all'esposizione a molti composti chimici presenti nell'ambiente, insetticidi, pesticidi, disinfettanti, profumi, detersivi, vernici, solventi, inchiostri, farmaci, prodotti plastici, fumi di stufe, tutto ciò che è di derivazione petrolchimica in dosi anche di molto inferiori da quelle tollerate dalla popolazione in generale. In Umbria circa 40 persone sono affette da questa malattia. Il primo firmatario dell'atto, Gianfranco Chiacchieroni, ha chiesto che oltre alla necessità di un centro di riferimento per la cura e la diagnosi, dato che questi pazienti non possono recarsi in comuni presidi ospedalieri senza rischiare di aggravare i propri problemi di intolleranza, venga preso in considerazione il tema della ricerca da poter svolgere anche insieme ad altre regioni e alle rispettive università su questa malattia per arrivare quanto prima a una sua codificazione e quindi all'introduzione fra le patologie rare, tema che comunque resta di competenza statale e non delle singole regioni. Gioco d'azzardo. Sulla proposta di legge di Carla Casciari, consigliera del Partito Democratico, di assoggettare le sale scommesse ai vincoli già previsti per le sale da gioco e sull'emendamento del consigliere Andrea Smacchi di aggiungere alle limitazioni di distanza delle stesse dai luoghi sensibili come scuole o centri sociali anche limitazioni delle fasce orarie in cui viene consentito il gioco d'azzardo, la Giunta è sostanzialmente d'accordo, ha detto l'assessore Barberini ai membri della terza commissione, almeno per quanto riguarda il principio che ispira questi provvedimenti. L'assessore Barberini ha aggiunto che serviranno però ulteriori approfondimenti per evitare che ci sia un'impugnativa del governo per via della competenza su questa materia. In seconda commissione è stato analizzato e approfondito il disegno di legge della Giunta regionale che apporta modifiche al testo unico in materia di agricoltura. La seconda commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Erosbrega, ha analizzato ed approfondito con il supporto dell'assessore Antonio Bartolini e dei tecnici dell'assessorato il disegno di legge della Giunta regionale che modifica il testo unico in materia di agricoltura, la legge 12 del 2015. Le modifiche riguardano sostanzialmente la gestione del Banco della Terra che dalla Regione passerà all'Agenzia Forestale per garantire maggiore semplificazione, incentivi per le imprese composte da giovani sotto i 40 anni, valorizzazione dei beni patrimoniali della Regione consistenti in 27 mila ettari di terreno e 450 cespiti immobiliari. Il voto finale sul testo, che ha recepito molte indicazioni e proposte emerse nell'audizione con le associazioni di categorie ed altri soggetti interessati, è previsto per la prossima riunione della commissione dopo aver approfondito ulteriormente l'articolo che riguarda i criteri di premialità per l'accesso. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale presieduto da Raffaele Nevi ha ascoltato in audizione il sindaco unico di Umbria Digitale, Francesco Giuliani, in merito alla situazione della società. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale presieduto da Raffaele Nevi ha ascoltato Francesco Giuliani, sindaco revisore di Umbria Digitale. Dall'audizione, richiesta dal consigliere Carbonari del Movimento 5 Stelle e che fa seguito a quella con il presidente Stefano Bigaroni, è emerso che il bilancio 2016 si è chiuso in pareggio a 13,7 milioni, con costi di circa 7,4 milioni per l'acquisto di beni e servizi e la quota restante per il personale. Il 95% degli introiti proviene da servizi svolti per i soci, mentre il resto da attività per altri enti. I saldi bancari risultano attivi e non risultano criticità nei rapporti con banche, fornitori e creditori. L'unico aspetto da tenere sotto controllo, ha evidenziato Giuliani, sono le modalità di pagamento degli enti pubblici e gli eventuali ritardi nel saldo delle fatture per le prestazioni erogate. Al termine della relazione, la consigliera Carbonari si è soffermata sul numero dei dipendenti e sul lavoro da essi effettivamente svolto, mentre Gianfranco Chiacchieroni, del Partito Democratico, ha sottolineato l'importanza della presenza di una società pubblica che si occupi di connettere e modernizzare le strutture digitali. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive della Regione, è disponibile anche in rete sul sito internet consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.